buonasera ben ritrovati diciannovesima puntata di pane amore e fidelis una puntata che si annuncia colpo basso stavo dicendo spero di riprendermi subito che questa sarà una puntata abbastanza ricca vivace perché ci sono tanti tanti spunti che ci vengono offerti non soltanto dal campo ma anche da vicende extra calcistiche e fra un po capirete anche perché puntata che naturalmente sarà incentrata prevalentemente sull'analisi dell'ultima partita dell'andria che ha segnato il ritorno alla vittoria della fidelis il tanto atteso ritorno alla vittoria della fidelisanzia lo faremo con un ospite direi doppiamente gradito perché ha avuto la forza di tornare nella nostra osteria è il primo ad essere ospitato per la seconda volta saluto Marco Piccini è un piacere essere qua buonasera a tutti naturalmente siccome è reduci da un evento quasi storico c'è un suo gol non potevamo non ospitarlo proprio in questa occasione perché chissà se prima vedi il campionato si ripeterà insomma speriamo 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 veramente che non sia veramente l'ultimo e speriamo però per tutti quanti noi abbiamo voluto subito cogliere l'occasione così stiamo tranquilli siamo tolti insieme a Marco Piccini o come al solito Francesco Martucci già pronto con tutte le domande arrivate sulla nostra pagina facebook e nell'angolo dedicato ai tifosi ospiti un po' particolari perché di solito siamo abituati a dare spazio a tifosi canonici stasera sono tifosi un po' particolari se notate hanno già qualcosa di diverso rispetto al solito un naso particolare perché Dino Luciana e Mimmo oltre a rappresentare in qualche modo la tifoseria andriese sono anche responsabili di un gruppo che ad Andrea ormai ha messo le radici per fortuna dico io ha messo le radici per qualcosa di molto molto interessante che io naturalmente preferisco che sia poi lo stesso Dino non lo chiamo dottor perché se no a spiegare bene Dino naturalmente ci sarà spazio anche per l'associazione dei clown dottori e dopo naturalmente voglio che tu spieghi con interesse ai nostri amici a casa quello che normalmente voi fate lì davanti vedete un po' del bagaglio che loro di solito portano dietro quando sono in ospedale o quando fanno clown terapia una cosa molto interessante Marco bellissimo, un'iniziativa molto bella, mi è capitato anche con altre squadre di visitare questi reparti è sempre stata un'esperienza unica bene, allora scendiamo subito nei dettagli della partita intanto vi informo che proprio all'inizio della seconda parte ci sarà una telefonata con il presidente dell'Andria Paolo Montemurro perché ci sono dei temi specifici che preferiamo trattare con lui con Marco invece analizzeremo la parte tecnica allora è tornata alla vittoria l'Andria due mesi di sofferenza da questo punto di vista almeno per quanto riguarda i risultati come avete vissuto questo sabato a Rieti? è stata una settimana carica di tensioni non posso nasconderla una settimana dove tutti si aspettavano tanto da noi noi eravamo a conoscenza però ci siamo presentati con la giusta mentalità in campo abbiamo approcciato a questa partita con la testa giusta aggredendoli subito fortunatamente si è anche sbloccata subito perché se no sarebbe potuto diventare molto complicata come lui è stata complicata per squadre come Lecce e Benevento questa trasferta per cui siamo felici di essere tornati con questi tre punti e di aver risollevato un po' l'ambiente queste sono partite particolari perché si gioca contro l'ultima in classifica se vinci sembra quasi che hai fatto il minimo sindacale se non vinci sono guai sono guai veri questa settimana sarebbero stati veramente guai devo essere sincero per tanti aspetti però siamo stati veramente bravi perché era una partita che si giocava tanto sul piano psicologico come hai ben detto però in questa maniera con il mister che ci ha dato le giuste indicazioni ci ha rassicurato con quel campo con quell'ambiente un poco da altre categorie categorie inferiori le preoccupazioni c'erano però devo fare un complimento a tutti i miei compagni perché siamo stati veramente veramente in gamba i temi del sabato a Rieti nella consueta copertina di Francesco Martucci una copertina preparata come sempre insieme a Gianni Monterisi andiamo a sentire che cosa ha da raccontarci Francesco Martucci non c'è stato bisogno di arrivare a tanto l'attesa è durata un bel po' ma almeno i tifosi andriesi non hanno dovuto prendere spunto dai colleghi tedeschi del Magdeburgo munendosi di frecce fluorescenti per indicare ai propri beniamini la via del gol smarrita negli ultimi due mesi si scherza naturalmente alla fine il gol è tornato anzi ne sono tornati tre in un colpo solo tre come i punti portati via da Rieti tre come i successi sin cui raccolti in trasferta la novità non assoluta ma quasi è che in gol ci sono andati centrocampisti e difensori una volta persino su palla inattiva altra primizia di stagione niente di nuovo invece nell'assenza degli attaccanti dal tabellino marcatori anche se Grandolpo e Devena si sono mossi bene tenendo in costante apprezzione la retroguardia avversaria dal Lazio inoltre è giunta la notizia che la Fidelis non ha perso gli occhi della Tigre per usare un'immagine cara al patron Montemurro concetto questo ribadito con forza da Angelo Tartaglia all'indomani della sconfitta di Benevento è ovvio che quando vengono meno i risultati come sta succedendo nelle ultime partite da fuori si abbia l'impressione che noi non abbiamo più gli occhi della Tigre ma in realtà così non è e io sono convinto che nelle prossime settimane possiamo dimostrare che questa nostra caratteristica noi non l'abbiamo affatto persa promessa mantenuta dall'esterno napoletano bravo nel trasformare le parole in fatti dando il buon esempio con la zampata pelina del raddoppio e col preciso assist per il tris di Piccini già Marco Piccini neanche a lui mancano gli occhi della Tigre neanche lui si tira indietro quando occorre dare il buon esempio non per nulla è tra i più amati dalla piazza e che dire di Ismael Bangurà ha azzannato la partita col piglio famelico di Chibrama una chance per dimostrare quanto vale e per regolare un vecchio conto in sospeso con la malasorte chissà che non sia il giovane guineano a guidare la riscossa delle seconde linee o meglio di quelli che Luca D'Angelo per ora utilizza col contagocce non esageriamo con gli elogi però è appena il caso di ricordare che la lupa Castelli Romani stazione in fondo alla classifica con numeri d'allarme rosso ok di recente sembrava in leggera ripresa ma sabato scorso ha ancora palesato limiti evidenti e le è bastato andare sotto nei primi minuti per disunirsi totalmente era comunque importante che la Fidelis scogliesse l'occasione favorevole offerta dal calendario così come era importante che si scrollasse di dosso il peso del lungo periodo senza gol né vittorie e adesso? adesso deve subito voltare pagina prossimo capitolo la sfida salvezza coi siciliani dell'Akragas loro sì in netta ripresa tutta un'altra storia insomma la dirigenza bianca azzurra ha già chiamato a raccolta il pubblico amico per abbattere il gigante reduce da quattro acuti consecutivi servirà infatti la spinta di un degli ulivi in versione bolgia e serviranno tanto per cambiare gli occhi di una certa belva dal manto a strisce ripartiamo proprio dal gol di Marco Piccini non voglio insistere però insomma si vede chiaramente che è un gol studiato in allenamento sì il mister quando ci sono queste palle per gli attaccanti a noi centrocampisti ci dice sempre buttatevi alle spalle perché nel momento in cui quella palla non viene presa è la palla che per un difensore è impossibile da marcare così è stato poi dopo la componente fortuna è stata grande lo si può vedere dalle immagini però ho fatto quello che ripeto tante tante volte in settimana durante gli 11 contro 0 alla fine noi chiedevamo anche nelle ultime settimane la possibilità di vedere all'opera qualche altro elemento della squadra per dare briciolo di freschezza in un momento naturale di appannamento della squadra diciamo che le scelte questa volta sono state premiate perché per la prima volta giocato da titolare Ismail Bangurà e ha subito sbloccato la partita dopo 9 minuti quindi esordio da titolare migliore non ci poteva essere per lui sì 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 ma anche gli altri ragazzi se notate anche Paterni che è entrato nelle ultime due partite Mattiera quando è entrato ci hanno dato grande freschezza questo perché probabilmente la nostra è anche una squadra un pochino usurata perché vuoi o non vuoi spesso gli interpreti sono gli stessi e quindi molti si trascinano dei problemini fino alla domenica e invece c'è chi ha riposato per crescere ed arrivare in maniera matura a questo momento che ci può regalare freschezza in questo momento così delicato della stagione hai detto bene oggi è stata una giornata particolare perché è stata anche una giornata dedicata agli ultimi confronti di questa giornata calcistica erano in programma Benevento Melfi e Foggia Matera due scontri che interessavano soprattutto il vertice della classifica diciamo in maniera indiretta anche l'Andria perché comunque giocava il Melfi che è una delle squadre coinvolte nella diciamo zona salvezza anche se è molto distante dall'Andria però erano risultati che un po' si seguivano con interesse come sono andati a finire Francesco? Allora cominciamo appunto da Benevento Melfi 3 a 0 quindi nessun problema per il Benevento reti di Herrera su rigore Giacomarro e poi autorete di Del Pinto molto più combattuta invece la sfida tra Foggia e Matera che è terminata 2 a 2 è partita tra l'altro dallo sviluppo rocambolesco nel punteggio visto che il Foggia si trovava in vantaggio per 2 a 0 grazie alle reti di Arcidiagono e Iemmello nel primo tempo sempre nel primo tempo nel finale è arrivato però il gol di Infantino che ha permesso al Matera di accorciare le distanze e poi in avvio di secondo tempo è arrivato anche il 2 a 2 definitivo quindi ancora una volta il Foggia si fa rimontare in casa e perde la testa della classifica a beneficio del Benevento la classifica aggiornata Benevento 42 Foggia 41 quindi sorpasso in vetta vediamo che l'Andria riesce a conservare il suo posto nella prima parte della classifica che è il vero obiettivo dell'Andria in questa stagione soprattutto insomma un punto in più di distacco rispetto alla quinta ultima che certo non fa male Marco dicevamo di questo senso di usura che si è avvertito nelle ultime giornate più psicologico o fisico? Io dico che è fisiologico lo chiamerei perché le stagioni sono lunghe questo è il periodo invernale con campi pesanti con tante partite alle spalle io penso che in una stagione di una squadra sia fisiologico però è fisiologico anche realzarsi come stiamo facendo e sarà fisiologico chiudere la stagione in bellezza e sarà fisiologico toglierci qualche altra soddisfazione io faccio una breve parentesi sulla partita di sabato comunque sul calcio giocato perché voglio coinvolgere i nostri ospiti in studio Dino ti do qualche minuto diciamo non più di un paio per parlare della compagnia del sorriso si chiama così vero? che cos'è? spiega un po' ai nostri amici a casa di che cosa vi occupate grazie Peppino posso funzionare intanto ti ringrazio e ringrazio Teresveo per questo invito che ci fa onore sì io ho il compito indegno di rappresentare un gruppo di oltre 40 clown dottori 25 già pronti ad entrare in operatività e gli altri già operativi ormai da tre anni noi siamo clown dottori sono i clown che usano il camice bianco qualcuno ricorderà il film di Patch Adams sono dei camici tutti colorati abbiamo il naso rosso trucchi da clown però non siamo dei pagliacci non siamo animatori di strada non siamo animatori di feste ecco siamo i clown dottori è una figura particolare molto particolare magica direi noi siamo un po' gli artisti delle emozioni entriamo in luoghi in cui c'è sofferenza ci può essere solitudine altre emozioni negative e cerchiamo di trasformarle questo è il nostro compito per far questo ci prepariamo in maniera professionale abbiamo un corso di oltre 200 ore di teoria 120 di tirocini o un esame finale e facciamo parte di una federazione nazionale dei clown dottori abbiamo un protocollo d'intesa con l'ASL insomma supervisione ogni mese con lo psicologo la palestra clown ogni settimana stage di formazione di aggiornamento siamo volontari ma siamo professionisti benissimo sintetico come speravo però non è che io ti ho invitato in questo studio per parlare solo dei clown dottori perché insomma sicuramente iniziativa è incomiabile però qui parliamo di calcio e tu grazie a Dio la Fidelis l'hai vissuta a 360 gradi per chi non lo sapesse due anni fa il dottor Leonetti era anche il medico sociale dell'Andrea nell'anno in cui l'Andrea ha vinto il campionato di eccellenza e segue comunque costantemente la Fidelis e allora non posso fare a meno di chiederti di fare una domanda al nostro ospite una domanda a Marco Piccelli volentieri intanto sono affiancato da Luciano e da Mimmo che sono tra i clown senior junior diciamo i nuovi ho dimenticato di salutarci sì io ho fatto questa bellissima esperienza con Nicola Ragno come mister di stare in panchina prima di fare la domanda però permetti Peppino di dire la grandezza il valore che hanno questi ragazzi perché io sono un ultras sono del vengo dalla curva nord sono attualmente sì mimetizzo sto sotto i tamburi dove c'è il cuore pulsante della curva dove ci sta Pelè dove ci sta Chiodino sono tutti i nomignoli dei nostri capi ultra storici e i nuovi quindi io sto là quello che la mia esperienza come medico in panchina vuole dire adesso è il grande il gran lavoro che questi ragazzi fanno sul campo cioè vedere la partita in curva più che vedere noi la vivevamo con passione e noi volevamo soltanto il gol è diverso che stare invece in panchina in cui tu senti gli sbuffi senti l'affanno vedi il pericolo che corrono gli scontri cioè entri in un turbinio che ti coinvolge per cui capisci davvero quanta quanta energia e quanto rischio anche ci mettono e quanta volontà per cui quello che voglio dire ai tifosi che ci ascoltano Fideris significa anche fedeltà e quindi è la fedeltà noi continuiamo ad essere fedeli anche nei momenti bassi in cui il tifo magari cala c'è un po' di contestazione la squadra continuiamo ad essere Fideris domanda domanda una domanda che faccio a Marco è questa nella mia esperienza come medico ho notato che l'aspetto psicologico è molto importante cioè voi siete sempre sulla corda per cui basta un niente per sentirsi magari a rischio a rischio di non farcela e poi invece c'è una è una specie di montagna russa che voi vivete ecco da questo punto di vista tu cosa cosa provare cosa prova la squadra cosa succede negli spogliatoi quando vivete questi momenti hai detto benissimo l'aspetto psicologico vale molto più del 50% forse il 60-70% per una squadra essere una squadra entusiasta ti può regalare in campo punti che neanche immagini perché proverai la giocata che normalmente non provi farai il passaggio e la corsa in più che normalmente non farai l'aspetto psicologico è importantissimo e va costruito in settimana l'aspetto psicologico è quello che ti aiuta nei momenti brutti io tante volte ho l'abitudine quando mi capita un momento brutto tendo sempre a ricordarmi come ne sono venuto fuori ogni volta penso per la prossima volta cerca di ricordartelo così sarai più forte e la prossima volta ne uscirai meglio a proposito di momenti particolari che si vivono durante una stagione per te tutto sommato è abbastanza semplice sei un centrocampista deve correre non è che deve fare gol c'è qualcuno dei tuoi compagni che deve fare gol e in questo momento non ci sta riuscendo sto parlando di Francesco Grandolfo che ha fatto una grossa partita a Rieti contro la Lupa Castelli ma purtroppo non riesce più a metterla dentro tu che vivi con lui lo spogliatoio da vicino come sta vivendo questo momento? ha fatto bene non farlo domenica non ci serviva non ci serviva si è retenuto per l'Acra si è retenuto e Francesco è un ragazzo splendido è l'attaccante che ogni allenatore e ogni compagno di squadra vorrebbe perché ti dà una mano incredibile durante tutta la partita si allena come pochi io non lo scambierei con nessun Moscardelli con nessun chi è il capocadagnere Ghiemello della categoria non lo scambierei con nessuno per il lavoro che fa e come dite tutti l'aspetto psicologico Francesco con un aspetto psicologico e con una squadra che vive un momento positivo per me è un giocatore da 20 gol l'anno in questa categoria e non mi sto sbilanciando scusatene se mi permetto perché ha qualità impressionanti ce le fa vedere tutti i giorni in allenamento e vi posso assicurare che è l'attaccante giusto per la Fidelis giusto per il nostro campionato giusto per la salvezza ritornando invece ai temi tecnici dell'ultima partita vista in tv è sembrato tutto molto facile la lupa Castelli ci è sembrato avversario modesto ancora più modesto di quello che si era visto nella gara di andata ad Andia ma è stato davvero così facile Marco? chiedetelo a Lecce se è così facile andare a giocare su quel campo e vincere 3 a 0 con quella semplicità è tutta questione di mentalità io ho letto le parole dell'allenatore dopo la partita che sinceramente mi hanno riempito di orgoglio perché parlava di una squadra che aveva fame aveva fame di salvezza e non era la sua eravamo noi quindi sono parole che mi hanno fatto capire che ci siamo approcciati veramente bene a questa partita Francesco cominciamo con le tue domande a Marco Piccini non so se personale o se già ricavate dagli interventi da casa come al solito comincio con un paio di domande personali allora parlavi della partita con della facilità tra virgolette con cui avete superato la lupa castelli romani quanto è stato importante riuscire a sbloccarla nei primi minuti perché poteva complicarsi con la partita se non foste riusciti magari a fare subito gol e gli avversari potevano prendere coraggio non è importante direi fondamentale ce l'eravamo detti cerchiamo di sbloccarla all'inizio e se non ci riusciamo non ci nervosiamo perché abbiamo 90 minuti davanti probabilmente si chiuderanno probabilmente sarà difficile ma dovevamo rimanere uniti fino alla fine invece siamo stati più bravi di quanto prevedevamo un'altra curiosità avevi detto prima che alcuni giocatori risentono della cosiddetta usura che stanno avendo un po' un calo fisiologico perché vengono utilizzati molto spesso dall'allenatore e vengono poco sostituiti tu sei tra quelli ti senti un po' stanco? no non mi sento stanco non mi sento stanco è un'usura mentale anche è un'usura che in un campionato un qualsiasi giocatore sentirà sempre e puoi chiederlo a chiunque durante un campionato avrai degli alti e dei bassi poi ci sono dei momenti in cui questo momento basso capita contemporaneamente per 4-5 giocatori della tua rosa e quello è il momento in cui hai una piccola flessione poi avrai il momento in cui il momento alto ci sarà per tutte e 10 e lì andrei a vincere su qualsiasi campo è così sono convinto che si tratti soprattutto di una questione psicologica perché è bastato segnare quel gol iniziale e abbiamo visto di nuovo tutti correre ho visto di nuovo il solito Piccini che ora era in attacco ora dava una mano in difesa come ci è capitato di vedere tante volte quel gol sicuramente quel gol di Bangura iniziale ha risolto parecchi problemi ma anche perché sono giovani voglio dire quindi non è esatto anche quello che si stancano così facilmente hai parlato prima della settimana che ha preceduto questa partita si avvertivano tensioni particolari nello spogliatoio non posso negarlo ci sono state delle tensioni particolari tensioni che a volte se non gestite in maniera adeguata possono portare a grosse problematiche invece noi ci siamo strati tra di noi abbiamo vissuto questa settimana molto uniti siamo andati siamo stati più volte la sera insieme siamo stati tra di noi molto bene durante questa settimana a dimostrazione della grande intesa che c'è come gruppo all'interno del nostro spogliatoio per cui ci siamo fatti forza l'un l'altro e siamo arrivati all'obiettivo settimanale te era capitato in passato di vivere un'esperienza di sei gare senza senza gol è stato insomma un record abbastanza corposo negativo te l'è già capitato in passato io ho vissuto l'annus horribilis del barletta quando facemmo la finale play a finale i play out proprio con l'andria e in quell'anno mi era già capitato per cui fortunatamente come dicevo prima avevo la ricetta per uscirne da quei tempi là la partita con la lupa Castelli potrebbe essere il nuovo punto di partenza cioè non un episodio isolato ma io ho sentito anche alcune tue dichiarazioni nel dopo partita ti sei sbilanciato contrariamente alla tua solita hai detto adesso le avversarie ritroveranno la Fidelis che è del girone d'andata ne sono convinto perché alcuni nostri componenti con un poco di fiducia daranno quel quid in più che ci servirà per vincere le partite io poi non butterei neanche via tutte queste sei partite butterei via solo Pagani e Benevento dove Benevento sottolineerei guardate il Melfi che finì ha fatto a Benevento e guardate il Benevento dov'è guardate a fine campionato dove sarà il Benevento io dico che l'unica cosa sciagurata di queste sei gare è stato quel gol contro la Paganese perché Catania e Lecce per me sono due partite più che positive più che positive poi abbiamo Pagani dove è stata una partita combattuta se vogliamo dalla quale comunque siamo usciti con zero quindi per una sciaguratezza nostra e poi per il resto il nostro cammino è stato comunque costante anche nel momento più basso siamo stati una squadra che non ha mai preso imbarcato una squadra che non ha mai concesso nulla quindi ora che abbiamo ripreso anche il fattore psicologico io dico attenti a tutti un'ultima domanda poi andiamo in pausa tu hai vissuto anche la splendida cavalcata dello scorso anno in Serie D dove insomma gran parte di quel successo strepitoso dell'Andia è stato costruito al Degli Ulivi che nei due anni di eccellenza e di Serie D era tornato il fortino classico cioè la fortezza inespugnabile che era un po' il simbolo dell'Andria negli anni d'oro quest'anno invece in casa tanti risultati negativi te lo aspettavi? sono campionati diversi sono campionati diversi perché la gran parte delle formazioni che vai a affrontare in Serie D sono formazioni composte da giovani per le quali l'aspetto ambientale fa tanto fa tantissimo quando un giovane si trova davanti un pubblico come il nostro e non vi è abituato ovviamente tante volte si scioglie in C la storia è diversa sono tutti abituati per cui il fattore ambientale in C conta molto meno per cui è una cosa anche abbastanza normale come potete vedere anche noi quando andiamo fuori su tanti campi che possono essere Lecce o quant'altro ci vai comunque non con quell'arsillo o quant'altro perché sei comunque abituato e quindi è questa la differenza fondamentale il cronometro corre veloce ci avviamo verso la conclusione di questa prima parte anche se abbiamo ancora tante cose da approfondire vi ricordo che non appena torneremo in studio dopo la pausa pubblicitaria avremo un collegamento telefonico con Paolo Montemurro al quale abbiamo girato e al quale gireremo alcune delle vostre osservazioni fatte da casa in questi giorni e soprattutto oggi sulla nostra pagina Facebook di Pane Amore e Fidelis per il momento è tutto ma rimanete con noi in linea alla pubblicità ci siamo ben ritrovati seconda parte di Pane Amore e Fidelis con intervallo dedicato ad una delle cose più belle di questa trasmissione intervallo alietato come sempre dalla pasticceria Monteriale che ci ha dato modo di trascorrere felicemente questi cinque minuti di pausa pubblicitaria ma torniamo subito ai temi della settimana e prego la Regine innanzitutto di chiamare il presidente dell'Andia Paolo Montemurro con lui dialogheremo a proposito di alcune tematiche interessanti intanto Francesco io comincio il fuoco di fila di domande da casa con te forza sì Marco prima parlavi del dicevi che ci sono delle nette differenze tra il campionato di Serie D e quello di Lega Pro a questo proposito ci sono due domande da parte di Giuseppe il quale ti chiede come mai è deciso di sposare il progetto della Fidelis diciamo a lungo termine nel senso che hai deciso di rimanere anche dopo l'esperienza in Serie B e poi che differenza trovi tra il modo di giocare di Favarin e quello di D'Angelo allora diciamo che sposare il progetto della Fidelis è stata una conseguenza quando passi un anno così bello era un desiderio più che un voler sposare io sin da quando si è chiuso il campionato volevo fortemente rimanere qui a Andrea e fortunatamente ho avuto questa possibilità per la quale devo ringraziare la società che ha creduto ancora in me le differenze tra Favarin e D'Angelo diciamo che le differenze sono grandi le differenze sono grandi prima di tutto a livello umano poi in secondo luogo ci metterei D'Angelo per me è molto molto più preparato a livello tecnico tattico può sembrare strano perché l'anno scorso abbiamo fatto una grande cavalcata vi posso assicurare che il lavoro che facciamo in settimana col mister è un lavoro molto importante che ho ritrovato poche volte durante la mia carriera e Marco Priccini di allenatori ne ha avuti insomma parecchi nella sua carriera abbiamo in collegamento telefonico Paolo Montemurro presidente della Fiderisandria che saluto buonasera buonasera a voi buonasera a tutti ciao Marco ciao presto ovviamente idealmente ma solo idealmente ti offro un bicchiere di birra fai finta calda la sua birra calda due volte no è fredda oggi no 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 è fredda noi gli altri ospiti li trattiamo bene quindi me lo vado l'unico penalizzato sono io va bene allora cominciamo da una prima richiesta che mi è stata fatta più volte in settimana che ho visto pure qualche tifoso ha pubblicato sulla nostra pagina facebook qualcuno diceva perché in occasione della partita con l'Akragas che può essere un po' la partita non dico decisiva per la salvezza ma potrebbe dare una bella spinta in avanti all'Andria verso questo traguardo perché non provare a ridurre i prezzi dei biglietti io la giro questa proposta al presidente della Fideri Sandria allora questa è una proposta giunta da più passiva più che dalle richieste fatte perché come sappiamo tutti quanti questo stadio ci penalizza come società ci penalizza un po' per per tutta una serie di motivi dalla gradinata all'illuminazione un po' a tutto è stata fatta una scelta di prezzi non più alti né più bassi normali nel mercato questa volta però in vista l'importanza della partita con l'Akragas e anche perché la società vuole dare un segnale alla città per questa nella prossima partita ci saranno prezzi popolari abbastanza popolari possiamo già anticipare più o meno i prezzi che avete deciso avete ancora da riunirvi per decidere no non c'è bisogno di riunirsi praticamente si parte dal il primo prezzo è ridotto quindi una curva oggi che parlo del posto più popolare praticamente da 12 passa a 9 euro quindi per la società è un sacrificio importante però lo fa molto volentieri proprio in previsione di questa partita dove veramente ci aspettiamo e mi aspetto una risposta forte da parte della città perché se il problema dei pochi pacanti fino ad oggi scusa in una reoccasione in due o tre partite e la causa è il biglietto o il sabato questa volta penso che non c'erano alibi per nessuno cioè noi giochiamo di domenica mettiamo dei prezzi popolari affinché lo stadio possa riempirsi e sostenere la squadra che in questo momento è meritevole ma non solo in questo perché lui era anche dopo la partita con la Paganese e lo sostengo sempre dopo le partite che mi hanno perso a questi ragazzi si può rimproverare tutto meno che l'impegno e la prelegazione e il sudore Marco è lì Marco è uno degli esempi lui esce quando esce a fine partita dal campo è sempre strabotto poi può aver dato cento ottanta o novanta lui nel suo ha tentato insomma tenta sempre di dare in maschio come lo fanno tutti quanti Marco è un esempio ma gli altri non sono da meno per cui questa volontà da parte in questa partita è proprio quello e vogliamo vedere un un degli olivi pieno e quindi mettiamo nelle condizioni metteremo nelle condizioni con dei prezzi popolari di riempire lo stadio vediamo come risponde la città seconda questione più volte posta in questa trasmissione che noi abbiamo riservato proprio per questo momento ne abbiamo parlato anche con il presidente quando è venuto qui ospite ma all'epoca soluzioni ancora non c'erano parlo naturalmente dell'annoso problema della illuminazione allo stadio che impedisce alla squadra di giocare in notturna o perlomeno in orario preserale ci sono novità al riguardo mi auguro solo che nella partita siccome sono stati i passi avanti rispetto all'ultima volta che ci siamo visti io mi auguro che con il Foggia che si giocherà di sabato si possa giocare la sera alle 20 e 30 quindi insomma questo è l'obiettivo insomma quindi state lavorando in questa prospettiva cercare assolutamente sì ancora stiamo aspettando ormai da diversi giorni l'esito del deferimento di cui abbiamo già parlato diffusamente in una precedente trasmissione c'è stato credo l'incontro presso la disciplinare per discutere di giovedì scorso giovedì 11 di solito il venerdì massimo escono le sentenze giovedì sera il giovedì sera sarebbe già dovuto dire siamo a lunedì ma mi pare che non ci siano notizie a riguardo o mi sbaglio no no non c'è nessuna sentenza anche perché poi l'avrebbe data anche l'Ansa e quindi sarebbe stato come come noi immediatamente informati come mai e come mai sicuramente secondo secondo me e i legali professionisti che hanno dibattuto un po' in questo questo 11 di giovedì scorso è un po' difficile dare una motivazione in caso di un'eventuale penalizzazione perché lì praticamente non c'è inadempienza non c'è non c'è nulla perché era stato pagato tutta l'eventuale esclusa quella famosa ritenuta da conto con i soldi sul conto corrente per cui è difficile secondo me dare per loro la Corte federale una motivazione per un'eventuale penalizzazione io mi auguro che ci sia una sanzione amministrativa perché se il professionista ha commesso un errore insomma ne paga anche la società però il meno uno sarebbe un'ingiustizia che noi andremo a perorare fino alla morte questo questo è proprio un impegno e una promessa perché noi in quel punto non ci sarà tolto e se ce lo dovessero togliere ce lo riprenderemo sempre nelle sedi di partito in conciliazione del CONI secondo grado a suo grado ma questa è una promessa proprio perché sarebbe un'ingiustizia grande quanto la casa credo che anche Francesco Martucci voglia fare una domanda al Presidente Francesco buonasera Presidente ciao Francesco ciao le giro un paio di domande al volo da parte dei nostri telespettatori Giuseppe vorrebbe sapere la questione orario come mai questi orari che cambiano continuamente come mai domenica giocherete alle 14 lui il paninsesto non lo fa la Lega Roma lo fa Sportium che è una vergogna dirlo ma Sportium riceve dalla Lega Pro 600.000 euro per trasmettere le partite in diretta decino loro di orari le società di Lega Pro non beccano un centesimo per questo quindi abbiamo solo dei disagi ed è uno degli argomenti che nella Presidenza Grevina saranno portati avanti e perorati con molta forza per noi è penalizzante noi giocheremo alle due poi ci potrà capitare di giocare il sabato ci capiterà e ci capita di giocare il sabato e niente decide Sportium purtroppo che ci piaccia o no e noi non becchiamo un centesimo per questo e allora già risposto alla domanda di un altro nostro spettatore il quale voleva sapere appunto quanti soldi versasse Sportium alle società di calcio la Lega Pro questo è un dato certo e quindi senza possibilità di smentire da parte di nessuno la Lega Pro paga 600 mila euro a Sportium che è il portale della Lega Pro per cui è qualcosa di anomalo di strano che comunque è un'eredità che si ritrova all'attuale Presidenza per cui nella gestione Magalli hanno deciso di operare in quella maniera avranno avuto delle loro buone ragioni oggi per noi è logico come società come tutto è logico bene Presidente naturalmente noi ti ringraziamo perché abbiamo credo soddisfatto le tante curiosità dei nostri amici a casa e soprattutto dato in anteprima questa notizia della riduzione dei prezzi dei biglietti per la partita con l'Agragast ti ringraziamo ancora naturalmente ti aspettiamo ospite nel nostro studio per offrirti la birra fresca dopo la sconfitta un'eventuale sconfitta no no però la birra sarà fresca l'anno prossimo bene grazie buona serata grazie a voi buona serata a tutti ciao buona serata ciao buona serata naturalmente noi ci permettiamo di insistere sulla perché ci rimprovera sempre che la birra è calda voi potete garantire che era fresca? è freschissimo ci muoviamo a bere però diventa caldo è caldo e beh la trasfidione dura un'ora quindi inevitabilmente prima di andare avanti io avevo promesso naturalmente ai nostri amici clan dottori un altro piccolo spazio Dino che cosa fanno effettivamente questi clan dottori che cosa ci vuoi ancora raccontare della tua della vostra associazione? sì grazie ancora i clan dottori vanno in ospedale prendono notizie dai medici circa le patologie che i malati hanno si preparano si truccano e solitamente a coppia entrano stanza per stanza contattano un paziente per volta quindi sono una sorta di camaleonti e cercano di far spazio dentro di sé per capire cosa il paziente il malato può volere o di cui può aver bisogno in quel momento è la lettura del contesto quali sono le esigenze noi non andiamo lì per portare un sorriso come semplicisticamente si dice noi facciamo ben altro cerchiamo di capire in che modo poter essere d'aiuto perché in effetti siamo operatori nella relazione d'aiuto andiamo dai bambini più piccoli ai più grandi gli adolescenti sono i più quelli che ci sfidano i più difficili da trattare andiamo oltre che nelle pediatrie di Andria Barletta e Biceglie anche in ematologia oncologica a Barletta quindi andiamo a trovare anche gli adulti Dino voi siete un'associazione di volontari però avete anche necessità insomma di qualche aiuto di qualche sostegno se qualcuno avesse intenzione io vi so prima parlavi di questo con Marco se avete intenzione di se qualcuno ha intenzione di darvi una mano come può fare allora noi abbiamo un indirizzo di posta elettronica l'associazione si chiama In Compagnia del Sorriso è facile trovarci su Google su internet è facilissimo basta digitare In Compagnia del Sorriso Clown Dottori e lì trovate tutti i nostri dati noi abbiamo bisogno di aiuto abbiamo molti progetti oltre a quello di andare in ospedale vorremmo andare anche per esempio nelle periferie delle città perché essere clowning è anche nel sociale vorremmo un'auto attrezzata per cui giriamo nelle periferie e quindi cerchiamo di portare dei messaggi anche positivi ai ragazzi che magari stanno in condizioni di abbandono o comunque non sono coinvolti dalla società sono un po' anche alla periferia della società e noi abbiamo intenzione di coinvolgerli vogliamo andare a Lampedusa nel centro di accoglienza per i profughi perché ci hanno detto che ci sono tantissimi tantissimi bambini abbiamo tanti tanti progetti e tanti e noi naturalmente ci auguriamo che avrete la possibilità di soddisfarli chiedo scusa naturalmente di non potervi dare ulteriore spazio ecco però il vostro sorriso ci sta accompagnando in questa trasmissione noi ne siamo fieri noi continuiamo la trasmissione prima di passare a nuove domande da parte di Francesco c'è la solita rubrica non possiamo dimenticarci di farvi vedere il ci piace non ci piace la Fidelis del primo tempo ci piace ci piace per l'approccio deciso alla gara per quel pizzico di imprevedibilità tanto attesa e ritrovata grazie alla verve del rapidissimo Bangurà ci piace perché ha saputo mettere subito le cose in chiaro frustrando sul nascere le velleità di una lupa affamata di punti ci piace perché ha segnato tre gol in 41 minuti interrompendo l'imbarazzante digiuno che durava da due mesi esatti e perché è andata finalmente a segno coi centrocampisti e difensori anche se in maniera talvolta raccambolesca certo l'avversario di turno ha opposto ben poca resistenza confermandosi squadra di modesta levatura ma era importante sfruttare l'occasione offerta dal calendario e la Fidelis c'è riuscita visto il momento delicato questi tre punti non erano poi così scontati alla vigilia averli conquistati in scioltezza rappresenta un bel segnale in vista dei prossimi banchi di prova altrettanto importanti e sicuramente più impegnativi la Fidelis del secondo tempo non ci piace non per trovare il pelo nell'uovo o per spaccare il capello in quattro ma il calo di tensione accusato nella ripresa sarebbe stato meglio evitarlo ci sta che una squadra avanti di tre gol all'intervallo abbassi i ritmi e pensi soprattutto a gestire l'ampio vantaggio dopo il rientro in campo ci sta che non voglia infierire su un avversario ormai al tappeto e che cerchi di risparmiare energie preziose ci sta un po' meno invece che si lasci risucchiare nella spirale di mediocrità generata dall'inconsistenza dell'avversario stesso adeguandosi al suo livello e concedendogli banalmente qualche chance per realizzare il gol della bandiera in tutta sincerità nel secondo tempo si è vista una partita da categoria inferiore anche per colpa della Fidelis ritorniamo in studio per completare il discorso relativo ai prezzi dei biglietti io ho appena ricevuto un messaggio dall'ufficio stampa della Fidelisandria che ringrazio ovviamente vi dico velocemente quali sono i prezzi stabiliti per la prossima gara allora per quanto riguarda la tribuna centrale si scende da 35 a 25 il prezzo del biglietto il ridotto donna 15 euro per la tribuna laterale l'intero costerà 16 euro credo rispetto ai 20 soliti il ridotto under 16 e over 65 13 euro il ridotto donna 10 euro questo per quanto riguarda la tribuna laterale invece per la curva nord l'intero come ha già detto il presidente 9 euro il ridotto under 16 e over 65 6 euro e le donne 5 euro rimane il prezzo per la curva sud ospiti il prezzo è di 12 euro per quanto riguarda i biglietti acquistati presso il botteghino dello stadio sia in prevendita che il giorno della partita non si pagheranno i diritti di prevendita che invece saranno normalmente pagati presso i soliti rivenditori autorizzati ringrazio ancora Dario Aduasio per la puntuale comunicazione naturalmente in questi giorni poi vi sarà dato ulteriore riscontro di questi prezzi allora abbiamo pochissimi minuti Francesco domande a raffica e risposte sintetiche poi chiederò anche a Mimmo che oltre a essere della compagnia del sorriso anche lui è un gran tifoso della Fidelis allora Giuseppe Marco ti definisce il pilastro del centrocampo andriese prova a strapparti una promessa rinnovi per la prossima stagione non so bisognerebbe chiedere qualcosa con me io penso che lo farebbe volentieri tu lo faresti sono innamorato di questa piazza sintetici per cui cerchiamo di esserci allora poi un'altra domanda no magari possiamo andare con la domanda vai con la tua domanda allora un'affermazione seria forza Juve questa è una trasmissione che sta degenerando sta letteralmente degenerando Marco ti faccio una domanda ma più che altro è un volerti spronare volerti spronare te lo faccio da condottore dopo la testata di Zidane al nostro giocatore nazionale Materazzi io ho pensato che il gioco diciamo del calcio è un gioco maschio no ma è vero che vi sputate vi date le gomitate cercate di nervosirvi tra di voi è vero oppure no? è verissimo io ho avuto dei compagni di squadra dei quali non faccio i nomi ovviamente che incentravano il 30% della loro parità solo su queste cose specialmente credo che a livello direttantistico succede molto spesso dove non ci sono i riflettori a livello direttantistico succede spesso però vi posso assicurare che anche giocando tra i professionisti ho avuto dei compagni di squadra che a gioco fermo facevano cose inverosimili allora un'ultima cosa Marco ci incontriamo la prossima volta battute da condottori così farai sorridere gli avversari e li dribberai comunque fai sorridere non fai sorridere a me fai sorridere a me fai sorridere sempre a me vengono a trovarti per sorridere va bene grazie allora Marco una domanda da Francesco il quale prova a chiederti una osservazione di natura tattica lo so che compete più al mister questo argomento però vediamo cosa ne pensi tu lui dice Garzia secondo te può sopperire come caratteristiche all'assenza di strambelli e poi se ci sono novità proprio su strambelli sul recupero Nicola è un giocatore non facilmente sorrogabile a parte essere un mio grande amico è un giocatore nella categoria non sorrogabile quando sta bene non si prende è un giocatore che ti mette in porta con una facilità straordinaria io ho una passione per lui quindi praticamente aprite una porta aperta aprite e poi è un ottimo punto su facebook se lo seguite potete vedere a che punto è perché in questo momento è possibile vederlo sta molto molto bene non vedo l'ora di riaverlo in campo con me nello spogliatoio tutti i giorni con me di allenarmi con lui perché anche fuori dallo spogliatoio siamo due grandi amici sai se si è posto un obiettivo per il suo rientro? si è posto un obiettivo e se l'è posto il giorno stesso che si è fatto male ne abbiamo parlato e mi ha detto cosa vorrebbe fare non ve lo dico sarà lui poi a dirvelo quando io ho una vaga idea ho una vaga idea però insomma ce la farà e addirittura secondo me anche con anticipo e io gli auguro tutto il meglio gli auguro di rientrare e gli auguro di darci una grossa mano sbaglio se dico che l'obiettivo può essere un certo derby con una squadra con una maglia rossonera se non faccio nomi lo chiederemo a lui lo chiederemo a lui lasciamo raccontare a lui tutto quello che sta vivendo tutto quello che sta passando tutta la voglia che ci sta mettendo in questo recupero che vi posso assicurare che è grande e naturalmente noi ci auguriamo di avere ospite in studio di nuovo Nicola Strambelli perché significherà che il suo calvario è finito siamo veramente in dirittura d'arrivo se non ci sono domande particolari io andrei con Marco sul prossimo impegno che insomma è un impegno abbastanza l'ultima domanda era proprio sul prossimo impegno perfetto allora un impegno abbastanza gravoso perché al di là dell'aspetto della graduatoria che magari prego Luigi in regia di riproporre in sovraimpressione in teoria l'Agragas è sotto la Fideri Sandia ma naturalmente dobbiamo prima di tutto considerare che l'Agragas ha avuto una penalizzazione abbastanza pesante tre punti di penalizzazione altrimenti anche l'Agragas sarebbe diciamo dalle parti dell'Andria in classifiche e poi un'Agragas che arriva da cinque vittorie consecutive quindi questa è una insomma un avversario mi sono documentato appieno sull'Agragas è una squadra in grande salute era una squadra che già quando abbiamo affrontato inizion era in grande salute aveva fatto buoni punti l'abbiamo affrontata sapendo che erano giocatori di gran valore come Zybert come Madonia come Di Piazza era una squadra di gran valore che non si esprimeva al meglio ora col cambio di tecnico evidentemente sono tornati a esprimersi sui loro livelli quindi è un avversario dei più ostici però è un avversario che affrontiamo anche noi è cambiato rispetto all'andata che tu sappia? non è cambiato più di tanto ma non c'era molto da cambiare evidentemente aveva dei giocatori di grande valore che hanno preso consapevolezza dei propri mezzi e che ora sono capaci di vincere cinque partite e se non ricordo male anche all'andata veniva da una serie di quattro vittorie consecutive prima di perdere con l'andrea si era prima in classifica e in quella partita sbancammo l'esseneto mi sembra che si chiamava lo stadio e fu una delle più grosse soddisfazioni di questa stagione perché facciamo un viaggio di ritorno di 15 ore forse ma con un sorriso che ricordo ancora a proposito di compagnia del sorriso siamo davvero in conclusione prima di congedarvi io devo ringraziare davvero di cuore Marco Piccini perché non è un sacrificio da poco spostarsi da Bari per venire ad Andrea anche il giorno del riposo lui l'ha già fatto per la seconda volta e di questo non possiamo che ringraziarlo prima di congedarlo e prima di congedare anche i nostri ospiti vi ricordo che abbiamo nell'angolo dei tifosi i nostri amici clandottori ecco se qualcuno volesse sostenerli lo facesse tranquillamente Dino ha già detto come fare per mettersi in contatto con loro magari anche ecco è subito puntuale la nostra regia è puntualissima e vi fa vedere il sito della compagnia del sorriso chi ha intenzione voglia desiderio di dare una mano ai nostri amici clandottori lo facesse tranquillamente con tutte le modalità che saranno illustrate sul sito è proprio tutto ringrazio Marco Piccini ringrazio come sempre Francesco Martucci grazie a te e oltre che ringraziare naturalmente non posso che sentirmi molto molto vicino all'esperienza che stanno vivendo Dino diciamo da diversi anni e i nuovi clandottori Luciana e Mimmo che mi auguro troveranno veramente forte questa esperienza è proprio tutto vi ringrazio e vi do l'appuntamento per lunedì prossimo 20 e 30 Telesveva sempre puntuali buonasera